Starendo a San Barthelemi, alla pista di fondo... spettacolare! San Barthelemi, pista strepitosa, siamo al Grand Thor, prima volta qui ma pista fantastica, divertentissima! E adesso c'è una bella discesa! Vivio e il Grand Thor va a sinistra e noi facciamo invece le rosse a destra verso il Rifugio Magia, può essere! Paisaggio da Piava, bellissimo! Bellissimo! Sono al bivio di qua, Grand Thor, per completare l'anello da 30. Bellissimo, ma magari un'altra volta, visto che sono già le due e mezza! Noi torniamo, andiamo verso il Rifugio Magia! Grazie a tutti! 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 rai bellissimo anche oggi bellissimo siamo quasi arrivati all'alte che aveva eccola qua bello è a a a a a a